Mi chiamo Luca Caracciolo, cintura viola di Judo e di Jiu Jitsu. Ad oggi il Jiu Jitsu include tutti gli orari della mia giornata. Sto praticamente a tempo pieno qua in Accademia, sia ad insegnare che ad allenarmi per tutte le classi. Nel 2012 ero ancora all'inizio della mia cintura viola, sono arrivato a Firenze e sono tornato a Firenze, che appunto è la mia città, per cominciare un nuovo percorso.